Ciao a tutti ragazzi, sono JimmyJoker Ed oggi siamo qui su The Crew, ragazzi Questa è la beta, la Closed Beta Sono stato scelto per testarla E adesso la testeremo insieme, vediamo un po' Cazzo, lo sento potente, cazzo, dai Dai che vogliamo giocare Oh oh, siamo a Detroit Si parte, si parte Oddio, meglio, si scappa Siamo su un pick up Vediamo dove ci porta Oddio Cazzo se corre sto Oh madonna Cazzo se corre Ragazzi, la grafica merita proprio Vai, vai Ah, abbiamo pure il Nos Bello, bello Sembra niente male, ragazzi Livelli, esperienza, ranking Time bonus Ok, vai, ciao Oddio Dove ce ne andiamo di bello Con sto pick up Scusate Scusate Non volevo Dove diamolo siamo Ah, nuova auto Spero sia la mia Oddio Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 no d'accordo da gotti Premi M per accedere alla mappa Dopo, ora non ci interessa Vai col Nos Ci abbiamo messo poco Oh, oh, una Muscle Questa è interessante Cosa sarà? Questa mi sembra molto interessante Ragazzi Se non facciamo incidenti Ah, ora sì Ops Forse ho fatto qualche danno Ma Dove minchia dobbiamo andare? Che cosa vuoi tu? Allora, vediamo la mappa che dice Noi siamo qui Che è sta roba Andiamo a questo evento Spero sia un evento Premici per cambiare camera Oh, oh Altro po' vediamo i pistoni che escono Messo Permesso Cazzo Permesso Oh Andate Levatevi dai coglioni Che dice la mappa? Nooo Figata Posso vedere specifico Nooo Spettacolo 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 ragazzi Oddio Qua ci stanno pirati della strada Ah ma penso che tutte queste persone Che vediamo in giro Sono tutti player online Suppongo Ops Forse Ho corso un po' troppo col nos Lo stile di guida Ragazzi A me Oddio Ecco A me personalmente piace Fatto bene La grafica è spettacolare Vediamo di fare qualche gara Se non alziamo per area Settemila civili Oddio Oh ma che è sto traffico E mettete le statarge alterne Ogni tanto Sì non so cosa sia Via Via Vediamo Pure la canzone Seria Ho ho Raduno Tuning Sì ma non penso Di riuscire mai a battere Una 4GT E non so Skyline Che era quell'altro Oddio Ragazzi State arretrati Messo Oddio Grazie a tutti Grazie a tutti E la vittoria è nostra Bene ragazzi Che dire Su The Crew Beh sicuramente la grafica E' fatta veramente bene Hanno lavorato parecchio Sui dettagli grafici E merita Merita davvero Il gameplay Mi sembra molto divertente Non è Non è molto difficile La mappa Come abbiamo visto E' molto dettagliata Si può zoomare Si può vedere l'anteprima Dell'area In cui vogliamo andare Una chicca E molto probabilmente Farò qualche altro video Per approfondire meglio Questa beta Ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao Grazie a tutti